Novesimo, primo cambio per Mr. Cozze il quale getta nella mischia Bruzzaniti in luogo di pelle Cambio azzeccatissimo per il tecnico del Sanluca perché dove appena un giro di laccette Bruzzaniti si mette in proprio, Bruzzaniti, slalom gigante Da impazzire, Bruzzaniti elude l'intervento prima di Lupo e di Benivegna Poi salta con questa sterzata anche Fra Capane, tocco sporco Quanto basta per eludere l'intervento di Giappone, il Sanluca è in vantaggio al provinciale All'ora di gioco, ha pescato ancora una volta Grazie